Musica 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 Eh, parlami della squadra, come la vivi tu? Invece che è così magia, si studia sempre, c'è la sera, mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora, cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore, no? Allora per me la scuola è una gran cazzata, poi sai quando la maestra si chiama, parla cacchiata perché uno magari l'ha studiato, gli dà la nota, c'è solo roba che nella vita non c'entra, la nota, le cose lì non c'entrano, invece nella vita c'entra l'amore, l'idea, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare, voglio vivere, voglio essere libero, poi in Cina, poi in America, poi gli Stati Uniti, poi in New York, tutte le parti del mondo, così puoi scoprire che l'unica storia di l'altriano, 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 lainely ricche cose facili di l'altriano, l'altriano, la prima�e della terra, una coscienza, l'altriano, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.